Buongiorno a tutti! Oggi siamo a Chiareggio. Abbiamo trovato parcheggio qui. L'obiettivo di oggi è il lago Pirola. Tempo splendido! Siamo passati dai 20 gradi di Lecco ai 5 gradi di Chiareggio. Che bello il sole oggi, perché fa proprio freddo. Il Monte dell'Oro, di cui invece abbiamo il Pizzo Malenco e la Sassa Dentova. Guardate la bellezza di questo sentiero nel bosco, ma soprattutto la bellezza del mio cagnolino Jack. Giacomino! E lì dietro si vede anche la cima di Bona. Siamo arrivati al Porro. Giacciaio Ventina, quello là dietro, a destra. Sentiero dell'Arrice Millenario. Allora, a sinistra c'è la ferrata per il Torreone Porro. Invece a destra, Sentiero dell'Arrice Millenario. Non andiamo a destra. Pensavo fosse questo l'Arrice Millenario. Ma chi è questa ragazza con l'Armellino? Ma che bello! Siamo davanti all'Arrice Millenario. Eccolo qui, mille anni di vita. Primo anello contatto nel 1700. Seguiamo per il Torreone Porro. Di là, a sinistra. Invece qua a destra, Lago Pirola. Ci andiamo dopo. Giusto? È corretto? Giustissimo. Se l'abbiamo fatta. Torreone Porro, 2004 e 35. Andiamo al lago. Andiamo al lago. Pa-poo! 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 e l'aramo quando è un po' più piena ora per andare a Chiareggio 1 ora e 20 sentiero 3 2 1 via abbiamo preferito ripare il 3 2 1, proseguire sul 3 2 1 dai che manca poco corpesina